La chiesa ventista in rete. La nuova tecnologia permette a chiunque è su internet di poter predicare. Ricordiamo a tutti che le pagine ufficiali sono caratterizzate dalla presenza del logo della chiesa ventista. Fate attenzione, diffitate dei falsi gruppi e pagine presenti su internet. Dieci giorni di preghiera sono già iniziati ma potete comunque seguire dei brevi mini video con il tema giornaliero sul sito di Hop Channel Italia www.hopchannel.it. Il pastore Eugen Avreshuk ci accompagna alla scoperta del santuario. Apri la porta del tuo cuore, ti accompagna ogni giorno a scoprire la parola e soprattutto ad aprire il tuo cuore all'insegnamento del nostro Padre Celeste. Le mini meditazioni bibliche giornaliere sono disponibili dalle ore 6 del mattino su Hop Channel, su Facebook e su YouTube. Grazie per averci seguito, al prossimo appuntamento. Grazie. 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 Grazie a tutti.